Lavoravo in quel di baggio, in catena di montaggio, e giravo una ranella, sempre una, sempre quella, ed un giorno fu così che mi venne fuori un tic. Lavoravo in quel di baggio, ad un nastro di montaggio, la mia testa si girava e il motore accompagnava. Per quel nastro fu perciò che il mio tic si complicò. Non si sta poi tanto male con un tic orizzontale, ma per colpa di un rialzo lo seguivo in un soppalzo. Per quel nastro fu perciò che il mio tic si complicò. Ma han cambiato di reparto, mi è venuto un po' un infarto. C'era un nastro sempre in piano, ma arrivavo a contromano. Mi trovai un po' peggiorato con il mio tic modificato. Per poter restare a galla, mi toccò muovere la spalla. E di più, come si vede, mi è venuto un tic a un piede per frenare col pedale. Ero proprio messo male. Lavoravo in quel di Baggio e mi ha licenziato a maggio. Mi ha chiamato il direttore e mi fa Caro signore, con quei tic non rende niente, eh? Non vede? Sembra quasi un deficiente. Grazie. Grazie a tutti.